salve ragazzi oggi andiamo ad affrontare un problema che spesso si propone a tutti i ragazzi sia che studino matematica sia che studino geometria o anche fisica come ricavare le formule inverse sappiamo che spesso i libri di testo ci danno sia la formula diretta che la formula inversa ma impararle tutte a memoria dopo aver già imparato le formule dirette sarebbe da pazzi quindi cerchiamo di trovare un metodo per ricavare le formule inverse partendo da quella diretta per fare questo la prima cosa che dobbiamo imparare tenere fissa a mente è quali siano le o le quattro operazioni in questo caso le sei operazioni e tenere bene a mente quali siano gli opposti di queste operazioni partiamo dalla somma l'opposto della somma è la differenza in simboli l'opposto del più è il meno così come l'opposto della differenza sarà la somma quindi in simboli il contrario del meno è il più passiamo alle moltiplicazioni e le divisioni e sappiamo che il contrario della moltiplicazione è la divisione quindi in simboli il contrario del per è il diviso così come il contrario del diviso sarà il per abbiamo l'ultima operazione da considerare arrivato a questo punto ed è l'elevamento a potenza il contrario dell'elevamento a potenza quindi se ho un numeretto qualunque elevato alla seconda potenza il contrario dell'elevamento a potenza è la radice quadrata così come il contrario della radice quadrata è l'elevamento a potenza detto questo tenute bene a mente le operazioni inverse andiamo a vedere come si comportano le formule inverse partiamo da una formula molto semplice che è quella del perimetro del quadrato il perimetro del quadrato si trova 4 volte la misura del lato quindi il lato per 4 mi darà il perimetro mettiamo che il problema ci dia la misura del perimetro e voglia conoscere la misura del lato il primo passaggio da fare è sostituire all'interno della formula i dati del problema quindi se io ho 4 volte il lato è uguale al perimetro ma il problema mi dice che il perimetro è uguale a 16 il primo passaggio da fare io riscrivo tutta la mia formula non più simbolicamente ma con i numeri che mi ha dato il problema lascio come simbolo soltanto ciò che voglio conoscere a questo punto io andrò a ricavare la misura del lato spostando questo 4 a questo punto mi tocca fare un passaggio fondamentale ovvero isolare la l come faccio ad isolare la l se l è legata al numeretto 4 trasporterò questo 4 dall'altra parte del simbolo uguale cosa succede in corrispondenza del simbolo uguale il simbolo uguale si comporta come un portale magico quindi attraverso questo portale magico ogni numero che attraversa il portale cambia ovvero il numero resta lo stesso ma assume le caratteristiche dell'operazione inversa ovvero se avevamo che 4 moltiplicato il lato era uguale a 16 il 4 che attraversa il portale da moltiplicazione diventerà divisione quindi il lato sarà 16 diviso 4 proviamo a fare un altro esempio utilizziamo la formula del perimetro del rettangolo sappiamo che il rettangolo a perimetro base più altezza per 2 la prima cosa da fare è vedere se il problema ci dà come dati l'altezza il perimetro o la base a quel punto andremo a sostituire i nostri numeretti all'interno della formula quindi scriveremo che se il problema ci ha detto che l'altezza è 4 e il perimetro è 20 andiamo a vedere quanto sarà la nostra base il primo lavoro da fare quindi è isolare questa incognita isoliamola trasportando tutti gli elementi che non ci servono dall'altra parte quindi sostituiamo i numeri che abbiamo 2 è uguale base più 4 che è uguale al perimetro che è 20 come vedete l'unica incognita mi è rimasta la base devo isolarla come prima cosa vado a eliminare questo 2 che è una moltiplicazione quindi scriverò che base più 4 è uguale a il 2 che è una moltiplicazione passa dall'altra parte diventa una divisione quindi sarà 20 diviso 2 quindi 10 devo ancora isolare la base perché non è da sola c'è ancora un più 4 vicino il più 4 però è un'addizione quindi passando dall'altra parte diventerà una sottrazione la base sarà uguale a 10 che era il numero che avevo ottenuto prima il 4 si fa il suo giro attraverso il portale e diventa un meno 4 abbiamo ottenuto che la base è uguale a 6 proviamo a ragionare per formule senza sostituire i numeri partiamo di nuovo dal quadrato stavolta dall'area del quadrato sappiamo che l'area del quadrato è uguale lato alla seconda mettiamo che io abbia l'area e voglia sapere il lato come prima cosa mi conviene invertire per trovarmi la mia incognita dal lato sinistro che è più comodo visivamente quindi il lato al quadrato abbiamo detto che è uguale all'area l'inverso dell'elevamento a potenza è l'operazione di radice quadrata quindi il lato è uguale a questo 2 esponente passa dall'altra parte diventa la sua operazione inversa quindi sarà la radice quadrata dell'area proviamo con l'area del rettangolo base per altezza è uguale area voglio conoscere la base la base sarà uguale ad area che resta lì dove è l'altezza passa da quest'altra parte attraversa il portale da moltiplicazione diventa divisione lo stesso vale per l'altezza se volessi conoscere altezza sarebbe uguale area fratto sarà la base a questo punto a passare dall'altra parte diventando una divisione proviamo adesso con una formula un po più complessa e vediamo se l'idea del portale è passata proviamo con l'odiosissima area del trapezio base maggiore base minore per altezza il tutto diviso 2 è uguale all'area supponiamo che vogliamo conoscere il valore dell'altezza cosa dobbiamo lasciare sono costretta a lasciare l'altezza da sola a sinistra nella formula dall'altra parte ho già una a di area e la lascio lì dov'è dobbiamo spostare questa parentesi e questo 2 come potete vedere il 2 si trova al denominatore quindi è una divisione nell'attraversamento il 2 diventa una moltiplicazione quindi avremo già area per 2 questo base più base la consideriamo come un unico elemento chiuso in parentesi ma sta al numeratore ed è moltiplicato con l'altezza essendo una moltiplicazione di una parentesi tutta la parentesi passa al denominatore di una divisione proviamo invece a vedere se volessimo conoscere la base maggiore abbiamo detto che la nostra formula è base più base per altezza fratto 2 uguale l'area a sto punto dobbiamo isolare la b la base grande quindi base grande è uguale area che era già di qua quindi tutto quello che è già dall'altra parte resta invariato così com'è perché ha già il suo bel posticino nella formula ma abbiamo da fare un doppio passaggio perché questo è chiuso all'interno di una parentesi quindi scriviamo un attimo il contenuto della parentesi tutto insieme quindi cominciamo ad isolare la parentesi che sarà uguale ad area questo va di qua e diventa per 2 questo era un prodotto quindi diventa fratto altezza e abbiamo saputo che due volte l'area fratto l'altezza ci dà la somma delle basi non ho ancora ottenuto lo scopo di ricavare la base da sola allora facciamo un altro passaggio la base da sola sarà uguale ad area per 2 o 2a se preferite fratto altezza e questa era un'addizione quindi a questa frazione dovrò sottrarre la base minore quindi come vedete è tutta una questione di lavorare molto sulle operazioni opposte poiché ripeto questo uguale funziona un po da bacchetta magica che fa capovolgere i numeri che sono moltiplicati o divisi e fa cambiare di segno ai numeri che sono sommati o sottratti proviamo a vedere un'altra ancora formula e proviamo stavolta con una formula che si trova in fisica o se volete in scienze alle scuole medie dove ci dice che la velocità è uguale allo spazio fratto il tempo se conosco già la velocità e lo spazio ma voglio sapere il tempo cosa vado a fare come primo passaggio io devo riuscire ad avere che il tempo sia di qui nella mia formula per passarlo da quest'altra parte dovrò fargli attraversare il portale e da denominatore diventerà un numeratore quindi sarà tempo per velocità è uguale spazio ma non devo dimenticare che io il tempo lo voglio isolare quindi per isolare il tempo faccio attraversare il portale alla v quindi essendo un prodotto diventerà il denominatore di questa nuova frazione proviamo a ricavare da questa formula stavolta lo spazio noi sappiamo che la velocità è uguale a spazio fratto tempo voglio isolare lo spazio per isolare lo spazio dovrò togliere questo denominatore e trasportarlo dall'altra parte per trasportarlo dall'altra parte come prima mi diventerà un prodotto quindi tempo per velocità è uguale s guardate che l'abbiamo già isolata la s quindi basta semplicemente invertire l'ordine dell'equazione avremo che lo spazio uguale al tempo per la velocità proviamo con una formula un po' più antipatica che è la formula inversa della posizione la formula è s uguale un mezzo accelerazione per tempo al quadrato questa formula ha un denominatore un prodotto e un elevamento a potenza come facciamo la formula inversa di questo tra virgolette formulone immaginiamo che vogliamo conoscere l'accelerazione quindi scriviamo tutta l'equazione in modo che l'accelerazione la ritroviamo a sinistra un mezzo accelerazione tempo al quadrato è uguale allo spostamento devo eliminare questo un mezzo perché la a deve rimanere da sola quindi la s resta dove è l'un mezzo passa dall'altra parte diventando una moltiplicazione quindi accelerazione per tempo al quadrato è uguale a due volte lo spostamento devo ancora eliminare questo tempo al quadrato che stavolta è un prodotto quindi andrò a scrivere che l'accelerazione uguale due volte lo spostamento fratto il tempo al quadrato che come vedete portando dall'altra parte essendo un prodotto diventa una frazione andiamo invece a vedere se volessimo all'interno di questa formula ricavare il tempo riscriviamo di nuovo la nostra formula portandoci la nostra incognita a sinistra e che cosa otteniamo che per isolare il tempo dobbiamo moltiplicare lo spostamento per due facciamo attraversare l'accelerazione che essendo una moltiplicazione diventerà una divisione e ancora non abbiamo finito perché abbiamo il tempo che è elevato a una potenza quindi riscriverò che il tempo è uguale a quello che abbiamo visto prima quindi lo spostamento per due fratto l'accelerazione ma tutta questa frazione assumerà l'inverso dell'elevamento a potenza quindi andrà sotto radice quindi ragazzi in definitiva le formule inverse sono un semplice spostamento di elementi della formula per dirla alla maniera molto poco matematica da una parte all'altra del segno uguale il segno uguale si comporta come un portale magico attraversando il quale ogni operazione diventa il suo opposto serve solo un po di esercizio ma con questa tecnica riuscirete a non dover imparare più a memoria tutte le formule inverse ovviamente su quelle dirette non c'è niente da fare vanno imparate vanno studiate per bene dopodiché per le inverse si ricavano facilmente spero che il video vi sia stato utile se vi piace se avete altre domande cliccate mi piace aggiungete commenti e fateci sapere e alla prossima ragazzi buona giornata ciao 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 ciao